Premettiamo che qualsiasi cosa è stata aperta di pote tra sneak peek e altro Per me ha buttato malissimo fino ad ora Io ci tengo a premetterlo insomma questo Quale è il secret? Ah no è l'altro Cerion irregolare Quanto vale? 50 centesimi? Un euro Un euro signori Bene, 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 bene Spero che non ti sia pulicare qua dentro perché impazzirei Ancora no, dai ragazzi vi prego Vene prego Vene prego Bro Sprite blu Seconda Secret Palace Slayer, vai La sto affillando La sto affillando ragazzi Bello, io lo voglio Un uomo malato Neos Siamo le dritte magari Right Health bro Boom Abbiamo pagati due Tuca Questa è mia Patrick Questa è mia, non esiste altra parola Questa è mia Patrick ha palesemente tutta la mia Raga io vi giuro Ho fatto Ho fatto sneak peek Ne ho fatti due Eccetera Ragazzi non ho trovato La riscatta Un cazzo Apri quello Ma neanche una roba irisoria Tipo la fusione Neos Da 60 centesimi Nulla Eh sì raga Minchia con l'elfo No Veramente Assurdo Assurdo questo Questa rimane con me Ma guarda come cazzo brilla Pum Maltrattato Curicara Una maledizione Qual è la terza che hai trovato Terza Curicara Per Diego ragazzi Terza Qualcuno ha detto stella Wow Virtuous Precious Qualcuno ha detto star Qualcuno ha detto life Ragazzi Bru Non fare un cazzo Però fighissima Cazzo ragazzi Signori Spero te la scegli base Il segretario è un po' Via Il peggior box Che si fa trick ha deciso Di venire qua A sfidare Cazza mia Un po' troppo forse Trova bene Signori La lancia Facciamola vedere Ma poi con il drop Tu non lo senti Merita Merita Forse di più Forse di più Perché l'avevo sbustata Anche Ma perché sono uscita Error box Attenzione Error box Attenzione È lui È lui Il Neos Signori E lui Coraggio 60 centesimi Non merita nulla Neanche la nostra attenzione Eh lo so che pare di più Nella terreno È Blu per Grazie cazzo Sapevamo Però Alla lunga Inverterà la tendenza Questa era più questa Che Blu E questa è una carta Che verrà giocata Oh ecco Spry Bluu No Elf Slavit Ed è il secondo Quindi Perché non fare Tutto un Architect for Super Perché non fare Tutte le carte Delle buste Super Nel 2020 Doveva uscire Questa cagata Murena Murena dell'Avarizia Ok Siamo nel momento Clu Spry Blu Sprite Blu Di nuovo Siamo davvero sculato Cioè si gode No sai che c'è dentro La terreno È la copia del tuo box Questo Sarebbe Assurdo Davvero Assurdo Eccola qua Per Raino Vabbè Una piccola copia Purissima Ok Ok Ho trovato le tre Ultra peggiori Questa Neos E la Murena Cioè È proprio la legge Del contrabbasso Neos Carta di copertina Mi piace Sta caricando Una secret Da pane È pesante È pesante Ok Lo sapevano Marfa Lo sapevano Non c'è altro da dire Peccato Beh Quanto vale Marta 20 30 Beh Buttalo via Nel senso Lo sapevo Cioè nel box Con spy blue Lo sapevo Lo sapevo Cioè Voglio dire No Ho un altro box Ma lo devo aprire con volpe Nonostante sia in live Non è qui per aprirla Mi è entrato due blue In quattro box Io Per quanto riguarda il mio Unico box Posso vedere solo questi Signori Signori Direi che Lo devi usare Lo devi usare o blue Mettiamo un più No Dov'è che lo uso il blue Allora te li prendo entrambi Secondo te Mi vado a montare un sprite Da mille Milla euro Mai al mondo Scusate Con tutto il rispetto Per sprite Fortissimo Non starlight Però good Eh vabbè ho capito Dai alla fine Quattro box Pretende alla starlight Un po' troppo Quattro box Ben trovato Due blue Cioè Blue è stata la secret Più trovata Sì 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 Assolutamente L'abbiamo trovato i due L'elfo L'abbiamo trovato i due E io ho trovato anche la terreno E lui ha trovato Assassino finale Assurdo davvero ragazzi Abbiamo droppato benissimo Sprite bravo E c'era ancora uno Quindi ora ti monterai splite Che ti chiedero Tutti e due Tutti e due Da vendere Probabilmente vendo Marta Vendo No forse la tengo Questa Kurikara Questi vanno un euro Ma c'è Queste per Goti Goti Hero Merda Questa è merda Perché non si può chiamare In modo diverso Tier Elements Kaleido Pensavo di trovarlo Infatti io non l'avevo ancora comprato Assolutamente contenti Di questi box Direi No Super contenti Contento Ma questa è bellissima Guarda quanto cazzo brilli No no È fighissima Ed è fortissima Io ve l'ho detto Le Le secret In questa espansione Le hanno fatte Veramente brillanti Sembrano americane Tu l'hai mai vista Una carta americana Sì 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 Sono molto più Accesa Questo è figo Però Due euro Beh è figo anche il Neos Però 60 centesimi No Guarda che ieri sera Io pensavo di farmi tech Addirittura Quanto costa Tantissimo Tantissimo Ero elementali Di pagare Ma vale la pena O no Fa una cazzata Non vale minimamente la pena La carta con più valore Del box A quanto sta Chiedono 80 Blu Blu è quella con più valore Ne abbiamo trovati due raga 4 box 80 65 La terreno E 55